Con mercatini, concerti e percorsi turistici a bordo di piccole auto elettriche, la maxi area pedonale cambia volto a partire dai primi giorni di dicembre. La rivoluzione, frutto di un accordo tra municipalità, negozianti e residenti, prende vita dal consorzio Borgo Dante e Decumani, che accomuna 121 commercianti della zona in un progetto di rilancio del territorio. Si parte il 3 dicembre in piazza Dante con il Mercatello della Cultura, una fiera dell'antico e della tradizione che rimarrà allestita durante tutto il periodo natalizio. Ma in programma ci sono anche concerti ed eventi per animare le strade degli antichi decumani. Facciamo una cosa che per 40 giorni creerà un po' di attenzione per Napoli e darà a tutta la città di Napoli un polmone di svago assolutamente originale e molto molto gustoso. L'appuntamento più atteso è il 12 dicembre, quando sei green car a due e quattro posti faranno il loro primo ingresso nelle piazze del centro storico, proponendo percorsi turistici al costo simbolico di uno o due euro in base alla lunghezza dell'itinerario. In quella giornata il consorzio, preseduto da Giuseppe Graziani, offrirà ai cittadini un tour dell'arte completamente gratuito per promuovere le mini auto elettriche acquistate dai commercianti. Una serie di iniziative per la valorizzazione non solo del percorso storico e delle botteghe storiche, ma soprattutto di un territorio, di una municipalità e di luoghi che comunque vogliono essere all'avanguardia, soprattutto sui temi dell'ecologia.